Il nuovo referendum costituzionale che i cittadini sono chiamati a votare il prossimo 20 e 21 settembre, argomento di confronto voluto dal gruppo Cambiamenti di Caggiano, che ieri sera attraverso Facebook ha proposto un confronto tra sostenitori del sì e del no. Mentre in tv si assiste a dibattiti non sempre rappresentativi delle due posizioni, con i referenti del sì spesso assenti nei salotti televisivi invitati per spiegare le loro ragioni, a Caggiano il capogruppo di Cambiamenti è riuscito a sedere allo stesso tavolo per un confronto sereno e pacifico i referenti di entrambe le posizioni, con la possibilità anche di intervenire con domande dal web. Nel pomeriggio di ieri Angelo Russo, consigliere comunale di Caggiano, ha moderato il confronto che ha visto da una parte a sostegno delle ragioni del sì il dottor Federico Salerno e dall'altro, per spiegare le ragioni del no, il dottor Nunziante Mastrolia. In un dibattito sereno sono state esposte le ragioni di entrambi. Tra i tanti punti analizzati, il sostenitore del sì, simpatizzante del Movimento 5 Stelle, ha criticato duramente il lavoro dell'ex presidente del Consiglio Renzi nel precedente tentativo di riforma bocciato dagli italiani, dichiarando come il passato tentativo avrebbe condotto ad una deriva autoritaria e parlando però anche della necessità di adeguarsi agli standard europei in riferimento al numero di rappresentanti in Parlamento anche in ottica di riduzione della spesa della politica. L'esponente a favore del no ha ribattuto alle motivazioni adotte dall'altro esponente ricordando innanzitutto come non si può parlare di adeguamento al numero dei parlamentari dei Paesi europei, dato che vi sono Paesi dell'Unione che hanno lo stesso numero di parlamentari o anche in più. Per ciò che riguarda invece il tema riforma, per l'esponente del no, non è accettabile che ogni qualvolta si parla di ridurre le spese della politica si va ad intaccare sempre la democrazia. Sottolineando come a risentirne sarebbero propri territori già marginali che dovrebbero rinunciare alla rappresentatività in seno al Parlamento, Mastroli ha anche evidenziato come la spesa maggiore spesso viene sostenuta per il mantenimento di direttori e tecnici dei vari ministeri, che non sono nomi rappresentativi del popolo. Insomma, un dibattito dai toni molto pacati ma di grande interesse anche per orientare gli elettori nel prossimo appuntamento che ancora una volta punta a modificare la Costituzione italiana ritenuta la più bella del mondo. Il video può essere seguito sul canale Facebook della lista Cambiamenti.